Ciao ragazzi e benvenuti nel dodicesimo episodio della serie su C++. In questo video vediamo il terzo ed ultimo ciclo presente in C++, ossia il ciclo for. Il ciclo for viene usato quando sappiamo esattamente quante volte deve essere eseguito il loop. Il ciclo for è probabilmente quello che userete di più, quindi è necessario capirlo bene e saperlo sfruttare appieno. Il loop for è composto da tre parti nella parte della condizione. La prima parte viene eseguita una sola volta prima dell'esecuzione del blocco di codice. La seconda invece definisce la condizione che mantiene attivo il ciclo. Mentre la terza parte è eseguita ogni volta che il ciclo arriva alla fine. Facciamo un esempio in cui stampiamo i numeri da 0 a 10. Quindi andiamo a capo, la sintassi è for, aperte le parentesi tond e come sempre apriamo anche le parentesi graffe, che ovviamente conterranno la logica del ciclo for. Poi torniamo all'interno delle nostre parentesi tond e andiamo a specificare le tre parti che vi ho citato all'inizio. Quindi nella prima definiamo l'indice, ossia settiamo un numero prima che il ciclo cominci. Quindi int i uguale a 0, punto e virgolo. Poi passiamo alla seconda parte, che definisce la condizione per l'esecuzione del ciclo. Nel nostro caso i deve essere minore di 10, perché appunto dobbiamo andare da 0 a 10 per stampare appunto i numeri da 1 a 10. Se la condizione è vera, quindi se i è minore di 10, il ciclo ricomincerà da capo. Se invece la condizione è falsa, il ciclo terminerà. Poi di nuovo mettiamo un punto e virgola e specifichiamo la terza parte che aumenta un valore, quindi con i++, ogni volta che il blocco di codice nel ciclo è stato eseguito. Bene, abbiamo impostato il nostro ciclo for, ora all'interno delle parentesi graffe stampiamo il numero. Quindi scriviamo cout, il numero è due punti e mandiamo a schermo i. Poi mettiamo un endline per creare uno spazio. Compiliamo il codice e abbiamo il programma. Ed ecco qua che ci viene stampato per 10 volte il numero è prima 0, poi il numero è 1, il numero è 2, eccetera. Ovviamente non arriviamo a 10 siccome il primo numero è stato lo 0. Se noi volessimo fare da 1 a 10, basterebbe cambiare il valore iniziale di i, mettendolo ad esempio a 1, e il ciclo deve continuare finché i è minore di 11. Quindi compilando di nuovo il codice, ecco qua che questa volta ci vengono scritti i numeri da 1 a 10. Inoltre potremmo stampare solo i numeri pari, quindi ad esempio 0, 2, 4, 6, 8. Quindi ritorniamo al ciclo iniziale in cui i partiva da 0 e terminava quando arrivava a 10. E questa volta incrementiamo i invece che di 1 di due valori, quindi scrivendo i più uguale a 2. Salviamo, compiliamo il codice ed ecco qua che questa volta ci vengono stampati solo i numeri pari. Quindi 0, 2, 4, 6 e 8. Ovviamente il valore di i potrebbe essere incrementato di 2, di 3, di 4, di 5, di 1000 e di qualsiasi numero voi vogliate. Bene, per questo breve video è tutto. Nei prossimi episodi vedremo e capiremo meglio l'utilità del ciclo 4. Ma se avete dubbi o domande lasciate un commento, mettete like al video se vi è piaciuto per supportarlo con l'algoritmo di YouTube. E noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie.